Benvenuti su notizionoclick.com per oggi prima giornata di marzo, la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicare nel corso della giornata. Io sono Loredana e iniziamo purtroppo con una notizia dall'estero, incidente ferroviario grave in Grecia, migranti, Lollobrigida, lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati. Caccia, Bargi della Lega, siamo in Emilia Salva, guardare il calendario venatorio e garantire i giorni di caccia. Randagismo per gli animali comuni, sigla il protocollo di intesa al comune di Pavermo, con Lions Club e ordine dei medici veterinari, governo Meloni, da Sceneline, mi aspetto un'opposizione durissima. Torniamo all'estero con Von der Leyen, con il decimo pacchetto di sanzioni, ritorniamo Arsenale Bellico Rosso. Questo e molto altro, potete trovare su notizimoclick.com, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima. Loredana 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 Loredana